Diciamo che veramente ognuno è libero di esprimere la propria opinione, ma l'insulto gratuito e stupido come quello... L'insulto razzista credo che sia la cosa più ignorante che una persona possa fare, che comunque non è una persona civile. E su Facebook spesso si raduna questa gente. Assolutamente, quindi viva le nostre veline meravigliose e straordinarie.